Ciao, sono Mara Vignola e oggi vi leggerò il capitolo 36 di Pinocchio. Capitolo 36. Finalmente Pinocchio cessa ad essere un burattino e diventa un ragazzo. Mentre Pinocchio nuotava alla svelta per raggiungere la spiaggia, si accorse che il suo babbo, il quale gli stava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe mezze nell'acqua, tremava fitto fitto, come se al povero uomo gli battesse la febbre terzana. Il povero Pinocchio faceva finta di essere di buon umore, ma invece cominciava a scoraggiarsi. Le forze gli scemavano, il suo respiro diventava grosso e affannoso. Insomma, non ne poteva più e la spiaggia era sempre lontana. Nuotò finché ebbe fiato. Padre e figliuolo erano oramai sul punto di affogare, quando udirono una voce di chitarra scordata. Era il tonno che si offrì di portarli in salvo alla riva. Geppetto e Pinocchio accettarono subito l'invito. Intanto s'era fatto giorno. Pinocchio e Geppetto dunque andarono alla ricerca di un rifugio. Non avevano fatto ancora cento passi che videro seduti sul ciglio della strada due brutti ceffi, i quali stavano lì in atto di chiederle l'emosina. Erano il gatto e la volpe, ma non si riconoscevano più da quelli di una volta. Figuratevi che il gatto, a furia di fingersi cieco, era diventato cieco davvero e la volpe, invecchiata e tutta perduta da una parte, non aveva più nemmeno la coda. Così è, quella triste ladracchiola caduta nella più squallida miseria si trovò costretta un bel giorno a vendere perfino la sua bellissima coda a un merciaglio ambulante che la comprò per farsene uno scacciamosche. Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada, finché fatti altri cento passi, videro in fondo a una viottola in mezzo dai campi una bella capanna tutta di paglia. Appena entrati dentro guardarono di qua, guardarono di là e non videro nessuno. Oh il padrone della capanna dov'è? Disse Pinocchio meravigliato. Eccomi quassù. Babbo e figliuolo si voltarono subito verso il soffitto e videro sopra un travicello il grillo parlante. Oh mio caro grillino disse Pinocchio salutandolo garbatamente. Ora mi chiami il tuo caro grillino non è vero? Ma ti rammenti di quando per cacciarmi di casa tua mi tirassi un manico di martello? Hai ragione grillino scacci anche me, tira anche a me un manico di martello ma abbi pietà del mio povero babbo. Io avrò pietà del babbo e anche del figliuolo ma ho voluto rammentarti il brutto garbo ricevuto per insegnarti che in questo mondo quando si può bisogna mostrarsi cortesi con tutti se vogliamo essere ricambiati con pari cortesia nei giorni del bisogno. Hai ragione grillino hai ragione da vendere e io terrò a mente la lezione che mi hai data ma mi dici come hai fatto comparti questa bella capanna? Questa capanna mi è stata regalata ieri da una graziosa capra che aveva la lana di un bellissimo colore turchino. E la capra dove è andata? Domandò Pinocchio con vivissima curiosità. Non lo so. E quando ritornerà? Non ritornerà mai. Ieri è partita tutta afflitta e rivelando pareva che dicesse. Povero Pinocchio ormai non lo rivedrò più. Il pesce cane a quest'ora l'avrà bello e divorato. Ha detto proprio così? Dunque era lei? Era lei? Era la mia cara Fatina? Cominciò a urlare Pinocchio singhiozzando e piangendo dirottamente. Quando ebbe pianto ben bene si lasciugò gli occhi e preparato un buon lettino di paglia vi distese sopra il vecchio geppetto poi domandò al grillo parlante. Dimmi grillino dove potrei trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo? Tra i campi distanti di qui c'è l'ortolano Giangio che tiene le mucche. Va da lui e troverai il latte che cerchi. Pinocchio andò di corsa a casa dell'ortolano Giangio ma l'ortolano gli disse che per avere quello che chiedeva avrebbe dovuto lavorare per lui girando il bindolo. Giangio condusse il burattino nell'orto e gli insegnò la maniera di girare il bindolo. Pinocchio si pose subito al lavoro ma prima di aver tirato su le cento secchie d'acqua era tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi. Una fatica a che modo non l'aveva durata mai. Il burattino dunque finito il lavoro prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna. Da quel giorno in poi continuò più di cinque mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo. Ne si contentò di questo perché a tempo avanzato imparò a fabbricare anche i canestri panieri di giunco e quei quattrini che ne ricavava provvedeva con moltissimo giudizio a tutte le spese giornaliere. Fra le altre cose costruì da se stesso un elegante carrettino per condurre a spasso il suo babbo nelle belle giornate e per fargli prendere una boccata d'aria. Nelle veglie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere. Aveva comprato nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro e al quale mancavano il frontespizio e l'indice e con quello faceva la sua lettura. Quanto allo scrivere si serviva di un fuscello temperato a uso penna e non avendo né calamaglio né inchiostro lo intingeva in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliegie. Fatto sta che con la sua buona volontà di ingegnarsi di lavorare e di tirarsi avanti non solo era riuscito a mantenere quasi agiatamente il suo genitore sempre malaticcio ma per di più aveva potuto mettere da parte anche 40 soldi per comprarsi un vestitino nuovo. Una mattina disse a suo padre vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina un berrettino e un paio di scarpe quando tornerò a casa soggiunse ridendo sarò vestito così bene che mi scambierete per un gran signore e uscito di casa cominciò a correre tutto allegro e contento quando a un tratto sentì chiamarsi per nome e voltandosi vide una bella lumaca che sbucava fuori dalla siepe. Non mi riconosci disse la lumaca mi pare non mi pare non ti ricordi di quella lumaca che stava per cameriera con la fata dai capelli turchini non ti rammenti di quella volta quando scesi a farti lume e tu rimanesti con un piede confitto nell'uscio di casa? Mi rammento di tutto gridò Pinocchio rispondimi subito lumachina bella dove hai lasciato la mia buona fata? Che fa? Mi ha perdonato? Si ricorda sempre di me? Mi vuol sempre bene? È molto lontana di qui? Potrei andare a trovarla? A tutte queste domande fatte precipitosamente e senza ripigliar fiato la lumaca rispose con la sua solita flemma. Pinocchio mio la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale. All'ospedale? Purtroppo colpita da mille disgrazie si è gravemente ammalata e non ha più da comprarsi un boccon di pane. Davvero? Oh che dolore che mi hai dato! Oh povera fatina! Povera fatina! Povera fatina! Se avessi un milione correrei a portarglielo. Mai non ho che 40 soldi. Eccoli qui. Andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo. Prendili lumaca e va a portarli subito alla mia buona fata. E il tuo vestito nuovo? Che mi importa del vestito nuovo? Venderei anche questi cenci che ho addosso per poterli aiutare. Va lumaca e spicciati. E fra due giorni ritorna qui. che spero di poterti dare qualche altro soldo. Finora ho lavorato per mantenere il mio babbo. D'oggi in là lavorerò cinque ore in più per mantenere anche la mia buona mamma. Addio lumaca e fra due giorni ti aspetto. La lumaca contro il suo costume cominciò a correre come una lucertola nei grandi solleoni d'agosto. Quando Pinocchio tornò a casa il suo babbo gli domandò. E il vestito nuovo? Non mi è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene. pazienza lo comprerò un'altra volta. Quella sera Pinocchio invece di vegliare fino alle dieci vegliò fino alla mezzanotte. E invece di fare otto canestri di giunco ne fece sedici. Poi andò a letto e si addormentò. E nel dormire gli pareva di vedere in sogno la fata. Tutta bella e sorridente. la quale dopo avergli dato un bacio gli disse. Bravo Pinocchio in grazia del tuo buon cuore io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino a oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre gran lode e grande affetto anche se non possono essere citati come modelli di ubbidienza e di buona condotta. Metti giudizio nell'avvenire e sarai felice. A questo punto il sogno finì e Pinocchio si svegliò con tanto di occhi spalancati. Ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando svegliandosi si accorse che non era più un burattino di legno ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri. Detto un'occhiata all'intorno e invece delle soliti pareti di paglia della capanna vide una bella camerina ambobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante. Saltando giù dal letto trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura. Appena si fu vestito gli venne fatto naturalmente di metterle le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio sul quale erano scritte queste parole. La fata dai capelli turchini restituisce al caro Pinocchio i suoi 40 soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore. Aperto il portafoglio invece di 40 soldi e di rame vi luccicavano 40 zecchini d'oro tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castani con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. In mezzo a tutte queste meraviglie che si succedevano le une alle altre Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti. E il mio babbo dov'è? gridò tutto a un tratto ed entrato nella stanza accanto trovò il vecchio geppetto sano arzillo di buon umore come una volta il quale avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami di fiori e di testine di diversi animali. Levatemi una curiosità bambino ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso? Io domandò Pinocchio saltandogli il collo e coprendolo di baci. Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo disse geppetto. Perché merito mio? Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie. E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto? Eccolo là rispose geppetto e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola col capo girato su una parte con le braccia ciondoloni e con le gambe incrociate e ripiegate in mezzo. Da parere un miracolo se stava dritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e dopo che l'ebbe guardato un poco disse dentro di sé con grandissima compiacenza. Come ero buffo quando ero un burattino e come ora son contento di essere diventato un ragazzino per bene. Fine